Non ho dovuto mettere questo fiore, perché? Un omaggio come tutti a una persona che ha dato la vita per le sue idee, un omaggio. Perché mi sembra doveroso ricordare una persona che si è sacrificato per la società, per il bene comune e quindi, avendo la possibilità di partecipare, ho partecipato. Io di venire qui. Perché è un eroe dei nostri giorni, perché pensavo che non potesse passare inosservato il suo sacrificio e credo che sia il nuovo Che Guevara dell'Est. Che credo che fosse un uomo estremamente lucido e coraggioso e che fosse, appunto, vittima di un assassino come Putin, che è peggio forse anche di uno come stare. E purtroppo non ho fatto nulla per ricambiare questo paese. Voglio cominciare adesso, venendo qui, con un signore che è russo, di un paese del quale eravamo addirittura innamorati quando eravamo ragazzini e adesso abbiamo scoperto finalmente proprio definitivamente invece chi sono.